Eccomi qua, agghiacciante che vi parla, scusate se non sarò tecnico come Kurosaki ma non ho la sua stessa conoscenza del gioco e di tutti i dati relativi, cercherò comunque di commentare al meglio il match e di vedere... Attenzione, mirror match, Chanly Chanly, Chanly, c'è un button check o un match vero e proprio? No, attenzione, button check, andiamo col button check, subito saremo da voi col match vero e proprio. Ci siamo, selezione personaggi, ok, adesso andiamo col match vero e proprio. Viene confermato il mirror match, sarà molto interessante da vedere, specialmente per me, perché lo ammetto ho visto pochissimi mirror con Chanly. Vediamo chi dei due riuscirà a vincere. Abbiamo Artifers Blue e Kurosaki Naroku colore che è, cominciano con delle Fireball, Artifers gestisce bene lo spazio, focus, guarda di bolle e di normal, cercano di tastare entrambi il terreno. Come sono invertiti i nomi? Come sono invertiti? Ah, no, perdon, problema tecnico, pare che abbiamo invertito i nomi. Ringraziamo Brian per la segnalazione. Brian, cosa pensi che dopo nei loser siamo io contro di te? Contro Robby? Contro Robby? Vedi, Brian è agghiacciante. Contento? Sì. Abbiamo Artifers in vantaggio, attenzione. No, Kuro in vantaggio, perdon, c'erano i nomi invertiti. Kuro si porta a casa il primo round. Allora è giusto così, è giusto così. Eccoci, scusate per i problemi tecnici, ma con i mirror è comprensibile che possono accadere. A parte Kurosaki all'attacco, perde il focus Artifers e subisce la pressione di Kuro. Guerra di bolle, full screen. E adesso che siamo verso il mid screen, si torna full screen e si passa in un attacco di normal con Kurosaki molto aggressivo. Ma Artifers non è da meno, cerca di rispondere alla pressione e di colpire l'avversario. Bolle. Abbiamo Kurosaki molto difensivo al momento, ma Artifers attacca lo sweepa e continua a ciparlo. Bolle da parte di Artifers, offesa da parte... Attenzione! In fila la super Kurosaki. E Artifers risponde con l'ultra, ma viene stufata. E Kuro vince con un air to air. Siamo al momento... Passa Kurosaki 2 a 0. No, 1 a 0. Pardon. Continua il mirror. Kurosaki molto... Raramente l'ho visto usare Chan. Mi sta piacendo molto questo suo utilizzo. Offesa molto pressante da parte di Kurosaki. Artifers sulla difensiva. Cerca di infilarsi quando può, ma non riesce a... Non riesce a infilarsi. Kurosaki è molto reattivo, molto veloce nel reagire. Niente. L'offesa di Artifers non entra. Kurosaki continua in perterrito ad attaccare. Attenzione! Artifers risponde con una serie di sweep. Ecco Kurosaki all'angolo. Subisce un focus counter, ma risponde prontamente. E vince di nuovo con un air to air. Siamo al probabile match point per Kurosaki, ma non è mai tutto scritto in Street Fighter. La situazione potrebbe sempre ribaltarsi. Un gioco molto paziente. Vediamo come va... Continua il match. Artifers risponde con un anti air. E attacca, colpisce. Ma Kurosaki, anche se messo in corner, cerca di reagire, ma non riesce ad uscire. Artifers difende bene. Continua a mantenere Kurosaki in corner. Vediamo come si risolverà la situazione. Kurosaki riporta la situazione verso il mid screen. Cercano di leggersi, di capire come attaccarsi. Kurosaki ha un lieve vantaggio sulla vita. Vediamo se saprà gestirselo bene. Artifers sbaglia la super. Kurosaki para e punisce a sua volta con la super, portandosi a casa il round e vincendo il match. Complimenti a Kurosaki ad Artifers. Ecco, adesso torna Kurosaki che saprà sicuramente darvi un commento migliore del mio. Nel frattempo continuo a farvi compagnia finché non torna. Vediamo un po' cosa dice l'utenza.